complessivamente mi sembra che abbiamo accennato da tutto poi per quanto riguarda quello che è la funzione di questa chiesa addirittura si parla che qui ai tempi dei romani passavano i pellegrini che venivano dal Medio Oriente e che andavano a Roma a trovare Pietro che stava carcerato e loro qui di notte si rifocilavano pigliavano un po' di spazio e poi questo è un pezzo della via frangigena davanti alla chiesa che scendeva fino a Corigliana subito lì loro andavano a moda via frangigena legliate le mappe